Nella prima vera del 2020 Fronius rientra di prepotenza nel mercato del residenziale con una proposta innovativa che è la sua soluzione ibrida per il mercato delle piccole taglie e del fotovoltaico a livello famiglia. Stiamo parlando del Fronius Primo Gen24 e del Fronius Simo Gen24, suo gemello trifase, quindi avremo una versione monofase di prodotto con taglie da 3 a 6 kW in step da 3, 3, 6, 4, 6, 5 e 6 kW e poi avremo la versione trifase con le taglie da 6, 8 e 10 kW. Si tratta di un prodotto che è ibrido, quindi nella sostanza è un prodotto che nasce per fare la conversione da continua in alternata classica di un impianto fotovoltaico o di un inverter per impianto fotovoltaico ma che ha anche la possibilità di poter connettere anche in un secondo momento una batteria, un sistema di storage. Quale sarà il sistema di storage? La compatibilizzazione con cui verrà lanciato il Primo Gen e il Simo Gen sarà quella con il prodotto BYD ma seguirà anche poi quella con il partner SolarWatt. Fra le caratteristiche importanti del prodotto Primo Gen e Simo Gen c'è il concetto di Multi Flow. Questa macchina è in grado di gestire flussi bidirezionali, cioè sia sul lato AC che sul lato DC e consiglierà inoltre di poter avere una flessibilità nelle installazioni, non solo sul lato DC ma anche sul lato AC. Quindi sarà possibile utilizzarla anche in situazioni di repowering quando c'è un inverter già installato per la conversione dell'energia dal fotovoltaico. Un'altra importante caratteristica della nuova generazione di prodotti Gen24 è il backup. Non è una funzione che è molto proposta da altre case di produzione. Fronius è tra le prime, forse la prima, che dà una risposta industriale sul tema molto affidabile con un backup a due livelli. Un backup integrato, molto semplice, con un cavo che permetterà di poter lavorare anche in condizioni di outage della rete cioè di quando la rete non è più in grado di decadere temporaneamente ma anche con un backup full, una versione full con un quadro esterno che consentirà proprio quando ci sarà outage della rete di poter attivare dei carichi nelle abitazioni anche in assenza di rete. È una funzione che appunto, dicevo, distinguerà questo prodotto dalla concorrenza che oggi fondamentalmente lavora sulla questione di accumulo semplicemente. Quindi backup. Altra cosa importante è la compattezza, la flessibilità di configurazione, il risparmio sui costi. Le nostre macchine da sempre hanno come filosofia quella di poter ospitare tutto il loro interno quindi non solo la possibilità di avere il backup o di connettersi a una batteria ma anche di poter fare efficienza energetica attraverso il dialogo con altre devices che possono essere le pompe di calore, il nostro Fronius Onpilot per il scaldamento dell'acqua calda oppure con delle colonnine di ricarica. Tutto questo è già all'interno del prodotto Fronius che tra l'altro arriverà per la prima volta già completo anche di data manager quindi tutte le macchine di nuova generazione saranno già dotate di antenina Wi-Fi o di connessione Ethernet per poter proiettare tutti i dati della produzione fotovoltaica sul nostro cloud che è il Fronius SolarWeb. Altra cosa importante che qualifica questo prodotto è la facilità nell'installazione all'interno la macchina come vedete dalle immagini è facilmente apribile è facilmente apribile anche nel vano della comunicazione e dello stadio dei collegamenti avremo delle connessioni molto facili per cui i cavi delle stringhe saranno connettibili direttamente ad un pannello ad incastro e poi ci sarà la possibilità anche di inserire degli scaricatori infine per il Fronius Service Partner naturalmente il vantaggio è anche quello di poter effettuare l'assistenza tecnica sulle macchine aprirle e sostituire le parti dove è possibile che è una cosa che non è così diffusa nel mondo della produzione di inverter